Prendi i signori, le canta. Allora mi dico, signore Dio, che vi offre al mio occhio? Se non voglio prendere, trovi al mio occhio. E se no, minuto 4. Il corato ti assicura che non le offesino? Ah, credo. Se no, a tutti quelli che gli dicono che sarà quello che vuole il bene, sarà quello che vuole il male, sarà quello che le odia, che sarà di tutto anche adesso. Maria, te sei il tesoro della nostra famiglia. Eh, per sempre quello. Eh? Te sei veramente il tesoro. C'è l'egoismo. Ecco. Ne mi, anche a me. Te prego il perito morte, prima detto, dopo la sera del orto, te dico, e le anime che non vanno insumi, le anime dimenticate, le anime. Allora, alle oltre, quando sono buono di dormire, che, e io via, la, del gruppo e quelle, le anime al da sempre. Bel motivo a vivere. Le anime al da sempre. Nel Vangelo che la Maria che resta ai piedi del Signore, la Sama Maria, vero? La scelta è la parte migliore, cioè ai piedi del Signore pregando. La contemplativa. No, tante volte, è vero. C'è tanta distrazione, perché, anche in tanto che ti dì, magari in Italia, passa per qualcuno, delle volte ti dà vedere, anche se non ti conosce, ma è una donna, è una donna, è foresti, è di noci. E alle volte si è scuriosa. Ma, insomma, si fa di tutto. Adesso penso, quando arrivo di là, che farò, la Tredi, no, dove sti manifesto, ma non li conosco. E il padre non so, no. E il Don Marino conoscerò. Ah, si, si, quello del Rango. Ecco. Ah, da Verona. Si, da Verona. Era per etica, se vi dà un terreno. Si, si. Ricordo. E adesso, le... L'è morto? Lì, in quella casa della Fiorina. Si. L'è morto. E c'è che le giovani erano accese. Ma l'è morto, no? Si, l'è morto, le messe. Si. Gli avrei che, quando... La madilla, la... Era la Fiorina. La madilla, quando... Era lì che moriva, e aveva lì do dottori che voleva vedere perché c'era un tumore, né? A stomaco. E la dica, l'era gli ultimi dì. E la dica, la dica, la vita. E' arrivato l'ora. E' arrivato l'ora e l'espira. E' arrivata l'ora. Una bella morte, no? Si, la c'entendeva. Hai che non c'ha mai lamentato. Non ho mai sentito a lamentarci. E dico, vedi tu, non è dolore, non è dolore, è di tutto. A Don Marino, lo matate anche a me. Perché la vedeva tanto, era anche. L'era bravo, l'era bravo. E solleveva anche a Don Giglio. E anche a lui, però, e che andava a stare a colere. E che andava a stare a colere. Sì, sì. Grazie.